un ragazzo di una grande simpatia, sensibilità e carica umana vediamo un po' come se la cava Mark Girardelli Mark Girardelli oggi potrebbe addirittura guadagnare punti sul suo rivale Zurbrieger che non è stato brillantissimo purtroppo è troppo buono 36-03 un vantaggio di 61 centesimi sul Mook per Mark Girardelli che evidentemente ha azzeccato tutto e anche qui sta sciando bene il primo posto di Michael Mayer purtroppo se ne è già andato temo rimane arretrato Girardelli ma guardate è più veloce di Michael Mayer la velocità sua è migliore e quindi temo proprio che non ci sia nulla da fare grande risultato per Mark 2-0-1-95 il tempo di Mook e vedete niente da fare 70 centesimi il suo vantaggio sul nostro Mayer la pista probabilmente sta anche diventando più veloce ecco Temmel alla Stylan abbastanza bene, non ha scelto ma le ho parlato molto troppo presto oh mamma che legnata grazie mille